Bella a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video, siamo alla nostra di Genova e oggi siamo andati a vedere i ragni. Allora, qua c'è già la prima teca e ditemi chi vuoi riesce a vederlo. Eccolo, quello lì, quella pallina nera che non si muove pelosa, è il ragno. Cioè, io me lo immaginavo più piccolo, appena l'ho visto ho detto mio Dio, ma quanti peli ha? C'è una meriade di peli quel coso. Ti immagini se te lo trovi in casa? Io come minimo brucio casa. Allora fa dagli 80 e le 250 uova, lungo dai 14 ai 16 centimetri. Io ho un coso di 14-16 centimetri. Un attimo, andiamo per teca, per teca. Qua c'è qualcuno? C'è qualcuno? Anche voi ditemi se c'è qualcuno, se vedete qualcosa. Io non ci vedo una mazza qua. Controlliamo in alto che non abbia fatto nidi strani. No, io qua non vedo assolutamente niente. Madonna! Questa cosa è enorme! Se sto coso ve lo trovi, te lo trovi in casa. Tu seriamente rimani ancora in casa. Dai 18 ai 22 centimetri, sto coso grosso. Allora... Rapace nero... Con una stella viola. Viola stella, eccolo! Ma si muove! Cucù! Non si muove, fortunatamente, perché se sto coso si muove mi spavento. Vedo le seciapette. Andiamo nella prossima teca. Allora, questa è tutta verde. Vediamo. Questa è la dimensione, dai 13 ai 15 centimetri. Non è gigantesco. Oh mio Dio! Invece sì, che gigante! È quel coso laggiù. Là. Laggiù, là nell'angolino. Tutto per terra. Madonna! Sono pelosi, sti cosi. Questo cos'è? Allora, è lunga. È dai 25 ai 30 centimetri. È enorme. Dov'è? Dov'è? No, Madonna! È lì. Non so se si vede, però è lì. Madonna! È una cosa inquietante. È dalle 50 alle 200 uova. Madonna! Penso che un attimo ha detto minchia, è vero. Guarda, com'è fatta la struttura di un ragno. Lì ci sto leggendo le sale varie, le varie rosse, Madonna! Gli organi sono tutti dietro, amici. Oddio, scorpioni! Sono enormi. Oh mio Dio! Ma io mica lo vedo. Quanto è grande? Oddio, ma è là dentro! Enorme! Sono dai 15 ai 17 centimetri, non giganteschissimo, però. Abbiamo ancora un sacco di teche. Spero, faccio ancora questa teca, poi faccio la seconda parte. Poi io non vedo nulla. Ditemi voi se vedete il ragno. Controllo anche sotto il tronco. Tra volte si nascondono. Comunque, eh, questo qua. E' veramente bello. Però io mica lo vedo qua dentro. No, non lo vedo. Andiamo alla prossima teca. Cioè l'ultima. Quindi adesso faccio un attimo, faccio la seconda parte. E spero che il video vi stia piacendo. E lasciate like, iscrivetevi, suguitemi su Instagram. E ci vediamo alla seconda parte. Grazie. Grazie.